Ecco, m***a, è un po' di cuore, un saluto, due latine di cuore. Il video e le foto ci stanno qua. Sì, c'è da partire, c'è da partire. Eh? Ma non c'è da quell'opera. Eh? Ma almeno c'è stanno, cioè c'è un po' da 5-5-4. Ah, il 35 basta. Eh? Beh, questa qui è piccola, ma quella che abbiamo noi in Uppistaglia è molto più grossa. La questa qui è una delle più piccole, l'ho vista una che la tirava largo. Questa è la più piccola, quella era piccolissima, quella era modellita, ma non c'è qua, però ha delle sagre. No, ma quella che abbiamo noi in musica. Ho visto quella grossa lì. Questa è sempre farla girare, quella è la grossa, ma non c'è valore. Quello che abbiamo noi ci va a sessare. Sì, sì, non c'è più. Largo. C'è più colore, non c'è più andato. Eh? Però, vedi? Sono intelligenti chi l'ha girato la marmissa, eh? No, non c'è nessun passone che venivano di qua. Beh, ma la resta è bravissima. Sì, eh? È buona. È buona. È buona. C'è una attrazione. Cosa c'è nera di un'attrazione? Sì, no, no. Non c'è n'attrazione. C'era, c'era in uno senza, c'erano due stanno e due loro. C'era Siamo, poi c'era Largo, poi c'era Largo, poi c'era Largo, poi c'era... No, siamo andati a mangiare tutte le patchine, grazie per tutte le patchine ruote, poi c'era tutta la polvere di qua, io non c'erano due. No, anche lei, mi ha fatto. Sto girando al pizzo, se non è lì. Vuole. Vuole, vuole, diciamo. Qua, vuole. La, vuole, diciamo. Lei, non è la terrazallamente in regola, è dictante, è quanto sia lo servizio della mia collezione. Mi sono andato. No, abbiamo e l'attrazione. Qua, vuole. Qua, vuole. In questa casa, è... Qua, vuole, è un po' l'inizio di un amore che guarda, ho un po' che parlava all'inizio. si fa! ... ... ... Un po' è un po' ancora temo! Un po' c'è l'isterno della belle efficienza no? Un po' è libero, ma dai facci un affatto e siرا suone il mezzo! E si fa! E lui fa a me dai! La ricorda che è un po' di cuore a me! E dai pieno 5 euro a te! E la festa no! Non voglio venire a dire no! Manichissio! Ma non ho mai fatto capire! Si! 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 Sìa, no! Non hai visto mica l'ho già visto prima cantata. ... 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 E' un po' di chiudere, perché rimando lo spazio di plastore? E' un po' di chiudere. Grazie a tutti.